Cometto che impazzisci a sapere... ...erci qui a fare quel che ci pare. Non può nascondersi. Hai capito, Batman? Sei finito! Datemi retta, dividiamoci. Cosa succede se Batman decide di spezzarci gambe e braccia? Vi ricordo che abbiamo appena distrutto il pronto soccorso. Batman è qui! Credi di sfuggirmi? Soldati, bombe, lumi di Psicocas, blindati in ogni angolo. Polline di quella mazza di Poison Ivy. E non parliamo di Batman che va in giro tutta notte sulla sua macchina alla guerra. Alla prossima eva... Io ne sarò in prima fila sul bus. Mi mancano i discorsi di Crane. Facevano molto Halloween. Ma l'enigmista è più divertente. Sapere che è Bruce Wayne mi lascia come una sensazione di vuoto. Armi ce l'ho fatto! Adesso c'è il video! Resta un posto di blocco. Finiamo il lavoro. Una liberazione. All'ultimo posto di blocco... Preparatevi! Batman arriva! Vengo a prenderti!